Continua il nostro viaggio all'interno del volontariato e del sociale sul territorio e siamo ritornati nuovamente presso la sede dell'Associazione Vivere la Vita Onlus che ha firmato un protocollo d'intesa con l'Associazione APS Adamo al fine di offrire uno sportello di ascolto per uomini e padri separati ad Altamura. Ricordiamo ancora che l'Associazione Vivere la Vita Onlus è in via Sant'Agostino 86 ad Altamura e noi abbiamo intervistato il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione APS Adamo Gianni Annalisa e Francesco Venezia a sostegno di tanti uomini che ogni giorno riscontrano un vero e proprio disagio a seguito di separazioni e soprattutto sugli aspetti genitoriali. Grazie, buongiorno. Io sono, come ha detto Mimmo Gianni Scenarella, Presidente dell'Associazione APS Adamo Uomini e Padri Separati. Grazie alla sinergia con l'Associazione Vivere la Vita Onlus apre lo sportello d'ascolto Uomini e Padri Separati ad Altamura per offrire un supporto a 360 gradi a questa figura di persone in situazione di disagio. Grazie all'Associazione Vivere la Vita Onlus possiamo intraprendere un percorso sinergico che abbraccia la persona a 360 gradi dall'anziano al padre separato perché spesso proprio nella condizione in cui vessano oggi i padri separati devono continuare ad avere il sostegno dei genitori che molto spesso sono anziani. La nostra associazione vuole offrire un supporto psicologico e legale grazie al contributo di professionisti avvocati tra cui Tiziana Montemurno, ringraziamo la dottoressa Marcella Montemurno, che collaboreranno in questo progetto in maniera attiva e offriranno la propria opera professionale a servizio di queste persone. Come abbiamo detto prima, gravano in situazioni di disagio economico e sociale. Quali sono i principali problemi che riscontra un uomo o un padre separato, visto che per quanto riguarda le donne, come dicevamo prima, ci sono tante associazioni, tanti enti che si occupano per la tutela sia delle madri separati, la violenza sulle donne. Per quanto riguarda gli uomini in questo caso, quali sono i principali problemi che riscontrano nel matrimonio, nella separazione? Grazie per la domanda, perché noi siamo un po' indignati, perché colmiamo come associazione un vuoto lasciato dalle istituzioni, perché ci sono, purtroppo bisogna dirlo anche nell'ambito del disagio, disagiati di serie A e di serie B. Noi pensiamo che i padri separati rispetto alle istituzioni sono disagiati di serie C, proprio perché nessuno vuole occuparsi di questa problematica e le istituzioni sembrano esserne completamente assenti, sembrano essere completamente non affrontato come problema. Tutto è lasciato alle associazioni. Il problema dei padri separati è fondamentalmente di due tipi. Uno di tipo economico, perché i padri separati devono trovare una nuova abitazione, devono comunque, con gli stipendi che ci sono oggi, spendere tutte le risorse sia nel mantenimento che devono dare ai minori e sia per ricostruirsi una nuova vita nell'ambito sociale. Quindi pensiamo agli stipendi medi di oggi, con 1000 euro, ricreare una nuova vita diventa impossibile. Spesse volte gli uomini sono costretti a combattere anche per avere una relazione con i figli, perché ci sono, come abbiamo detto, delle vere e proprie ingiustizie per quanto riguarda le visite, la cura dei figli, eccetera. Questo anche all'estero, non solo in Italia, vero? Sì, un altro problema importante oggi nell'ambito della separazione che riscontrano i padri separati è proprio la difficoltà di svolgere il ruolo genitoriale, proprio grazie a un sistema ancora arcaico che i giudici per l'assegnazione dei minori. Oggi i padri nell'ambito della legge 54 del 2006 sono ancora visti come genitori con il diritto di visita e quindi questa clausola riduce al minimo la possibilità di un padre di essere genitore a 360 gradi. Molto spesso la problematica che riguarda i rapporti con l'estero è perché molto spesso oggi con le famiglie multietniche le madri portano via i figli dal paese del coniugato, dove si sono sposati, dove il padre risiede e il padre perde completamente le tracce. Ci sono numerosi casi in Italia di sottrazione di minore perché le mamme hanno portato con loro i figli all'estero e quindi i padri sono costretti ad inseguirli con tutte le difficoltà del caso, anche in Italia. Uno fondamentale a livello nazionale è proprio il caso di Tiberio Timperi che non riesce ad avere un rapporto stabile con i figli ma questo è un problema che riguarda non solo chi è famoso ma riguarda a tutti perché c'è una sindrome purtroppo si chiama sindrome di allenazione genitoriale, è praticamente l'altro genitore che è collocatario che fa una sorta di lavaggio del cervello, una sorta di pressione psicologica nei confronti del minore per cercare di annientare l'altro genitore che non è collocatario. Molto spesso a fare questo ruolo, a svolgere questo ruolo sono i nonni di ambo le parti che fomentano il conflitto invece di svolgere un ruolo di arbitro, di pacere come dovrebbero essere i nonni oggi. Tutto questo si ripercuota anche a livello di salute per quanto riguarda l'uomo, a livello psicologico quindi vi è una sorta di tortura, chiamiamola così per quanto riguarda gli uomini in parecchi casi. Un consiglio che ti senti di dare da questo punto di vista e di non perdere la speranza per tutti? Noi nel fare comunque gli auguri di Natale a tutta la cittadinanza di Altamura vorremmo proprio spronare i padri separati a venire, a rivolgersi alla nostra associazione proprio in virtù del fatto che non siete soli. Oggi dove c'è un'associazione c'è un gruppo di persone, di professionisti che vuole occuparsi di voi a 360 gradi il problema psicologico che è sottovalutato e che dovrebbe essere invece rivalutato, dovrebbe essere ripreso in considerazione è fondamentale perché se non si cura la sfera psicologica di queste persone che sono state calpestate dove si è visto il fallimento di un progetto, quello della famiglia se non si ricostruisce una ossatura psicologica propria della persona questi uomini, questi padri non potranno mai più riprendere una vita in relazione con l'altro sesso e quindi ricostruire una nuova famiglia per queste persone è quasi ed è impossibile proprio in virtù di tutte queste violenze che oggi i padri separati affrontano e subiscono. Bene, ringrazio Gianni Scennarella, Presidente dell'Associazione Adamo Genitori, Padri, Uomini Separati e concludiamo col Vice Presidente, vogliamo dire dove possono venire adesso oltre allo sportello per quanto riguarda Altamura, dove possono venire quindi a Matera anche per partecipare, chiedere informazioni e iscriversi. Siamo presenti con i nostri sportelli di ascolto a Matera, Altamura, Bari niente, auguro a tutti un buon Natale e venite a trovarci. Bene, ringrazio Gianni Scennarella, Presidente, e Francesco Venezia, Vice Presidente dell'Associazione Adamo, Padri, Uomini Separati e come ringraziamo anche l'Associazione Vivere la Vita Ollus e vi ridiamo appuntamento a un altro tema che affronteremo sicuramente da questa associazione di Altamura. Grazie a tutti, buona domenica.